C'è un libro che potrebbe essere di aiuto ai comunicatori della Chiesa e anche agli studiosi della comunicazione della Chiesa. Tra diversi temi c'è la progressiva professionalizzazione della comunicazione istituzionale, il rapporto tra comunicazione e governo e come la Chiesa può fare per entrare nella conversazione pubblica. Un'idea che vorrei sottolineare e che è proprio il titolo del libro è che la comunicazione è scienza e anche arte. Secondo me lo spiega molto bene Papa Francesco quando dice che noi come comunicatori dobbiamo essere persone che abbiamo una missione. Una persona che ha fede non vive questa missione solo come una cosa che le viene dalla professione ma anche che viene dalla sua vocazione cristiana. Ci sono tantissime sfide della comunicazione nella Chiesa però vorrei sottolineare una in particolare. Aiutare la Chiesa, le persone, le istituzioni a recuperare la legittimità per essere credibile e poter partecipare nella conversazione pubblica con i diversi attori sociali.